bloomwell è il fiorire del tuo benessere un benessere a 360 gradi quindi non solo corpo ma anche anima e mente bloomwell è esattamente tutto ciò di cui avrei avuto bisogno quando ho iniziato il mio percorso tanti anni fa nel fitness finalmente abbiamo deciso di sviluppare un progetto per aiutare le persone prendendole per mano a migliorarsi ea vivere appieno ogni momento bloomwell è motivazione è una guida ed è un percorso per imparare a conoscersi a rispettarsi a rispettare chi ci circonda e soprattutto per ritrovare o per trovare il proprio posto nel mondo bloomwell io me lo immagino come una cassetta degli attrezzi in ogni sezione troverete degli approfondimenti e inoltre ci sarà un professionista che vi prenderà per mano e vi proporrà degli esercizi pratici il programma di allenamenti a me piace chiamarlo programma di movimento perché andremo ad allenare la forza la mobilità faremo cardio ci divertiremo anche ma ciò che rende speciale questi allenamenti è il movimento andremo ad allenarci in modo da imparare a sentire il nostro corpo ea percepirlo nello spazio dovreste affidarvi a bloomwell perché non solo un percorso che vi permetterà di entrare in connessione con voi stessi ma è anche un mondo dove non esistono tabù dove c'è inclusività dove c'è community avremo il bloom lab dove potrebbe incontrarci e abbiamo proprio il desiderio di divertirci insieme a voi con podcast momenti per condividere e vivere veramente a pieno liberamente ciò che siamo e ciò che volete diventare spaga mi chiamata che è finita la memoria aspetta fa venire a che guardare e a a a Grazie a tutti